Buongiorno al dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parleremo di candele, la famosa candela che è presente nell'Occidente e nell'Oriente. Che cosa ha a che fare la candela con l'ipnosi? Beh, ti faccio un esempio banalissimo per andare nel concreto. Una delle tecniche per entrare in trance, per entrare nel famoso rilassamento, per entrare nelle famose onde alfa è guardare in maniera fissa e concentrata e focalizzata la famosa candela che trovi da per tutto. Prova a guardare la candela senza battere le palpebre, rilassati oppure la fiammella di qualche altra candela di qualsiasi tipo e poi ripetiti delle frasi come un mantra e vedrai nei fatti, nella mente, nel corpo, nella tua vita che cosa succede. Se lo fai in maniera ripetuta, ripetuta senza credere ma facendolo ti meraviglierai. Questo è un altro esempio, una tecnica semplicissima che molte culture, razze e religioni nel mondo hanno ereditato dal passato, perché nel passato le società erano soprattutto società pragmatiche, prendevano ciò che gli serviva senza chiedersi il perché. Quindi la candela come mezzo per entrare in un'altra dimensione per far sì che le tue suggestioni, le tue autosuggestioni, i tuoi propositi, i tuoi desideri superino il famoso, la famosa dogana che è la tua coscienza, la tua logica, quella che mette tutto in dubbio. Far sì che queste suggestioni entrino, penetrino, vengano assorbite dal genio della tua lampada di Aladino. E ricordati, ogni tuo desiderio è un ordine, se è solo se sai come farlo. Ci sono tecniche molto più potenti, come il metodo di CS, che piano piano sviscererò e presenterò a te e a tutti con il tempo. Per cui utilizza la candela, ipnotizzati da sola e capirà che cosa voglio dire. Va bene? Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere i pronosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere i pronosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino. Al prossimo, vi ti un bacio e un abbraccio.